Tutti i nazionali e anche i locali ci raccontano, come ho detto oltretutto poche settimane fa, che questo deve essere l'ultimo sforzo che chiediamo e anche che possiamo chiedere, lo dico con chiarezza. Quindi penso che scavallata questa ondata e quindi, come ho detto la scorsa volta, 30-40 giorni di fatica, dopo ci troveremo in una situazione in cui il clima aiuterà alla minor diffusione del virus e nel mentre deve continuare a aumentare la campagna vaccinale perché questo ci permetterà con l'avvicinarsi dell'autunno, che è quello che fa ripartire la pandemia, di avere una copertura vaccinale sufficiente affinché la pandemia non riparte e quindi tornare a una vita normale.